e poi vi ricordo che vi lascio un like e condivido questo video poi sotto in descrizione vi lascerò un link per andare su discord così quando mettiamo le gioielli con me posso scrivere tu e mandate un messaggio sul disco e vediamo andiamo il giocatore e l'allai qui e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Un saluto. Grazie.